Come fare i cori con l'autotune in soli 5 minuti? Lo vedremo dopo la sigla Eccoci qua, oggi ti spiego come fare i cori con l'autotune in maniera veloce utilizzando un plugin veramente fantastico e spettacolare che è Autotune EFX Innanzitutto, prima di parlare e di capire un secondo come fare i cori dobbiamo fare un piccolo disclaimer su quelle che sono la teoria musicale Generalmente, quando si fanno i cori, si mettono almeno, il minimo sindacale sono tre voci Tre voci perché? Perché la voce deve almeno fare una triade che sia maggiore o minore, questo è il secondo del brano Una triade, cosa vuol dire molto semplicemente? Vuol dire che devono suonare tre note insieme Per esempio, un accordo, una triade di do maggiore sono do mi sol, suonano contemporaneamente e fanno la triade di do maggiore Allo stesso modo, nella triade delle armonizzazioni si fa per le voci Quindi si canta una voce nella tonalità del pezzo, una voce una terza su e una voce una quinta su Ok? Terza e quinta sarebbero gli intervalli rispetto alla tonica Semplicemente do, do, re, mi e la terza Fa, sol e la quinta Ok? E quindi si usano queste tre note E quindi le voci in queste tonalità Per creare l'armonizzazione Ora, ci sono vari modi per poterlo fare in fase di post-produzione, in fase di mixing Ovviamente c'è il metodo, quello classico Che prendi un Melodyne, prendi un vari audio, prendi un Waves Tune Qualsiasi tipo di tuner che abbia anche il piano roll e la ti sposti tutte quante le note Però, ci sono anche altri metodi, a volte molto più veloci e molto più creativi Che puoi utilizzare per fare i cori E oggi ti faccio vedere uno di questi metodi qua Poi, chiaramente, se sei interessato ad approfondire ancora più nel dettaglio Tutto quello che riguarda l'autotune, le armonizzazioni, eccetera, eccetera In descrizione trovi i miei percorsi privati Dove lì andremo nel dettaglio in tutto ciò che concerne l'arrangiamento vocale Ok? Però, oggi ti faccio vedere un metodo velocissimo Che puoi utilizzare e anche molto creativo Allora, come si procede? La prima cosa che devi fare, ovviamente, è avere una voce con l'autotune intonata Con o senza autotune dipende Però questo è un metodo che esprime la sua massima utilità La sua massima espressione con l'autotune, chiaramente Perché senza autotune fare questi tipi di interventi potrebbero sembrare delle voci un po' innaturali Che a volte, però, possono essere anche molto utili Dipende da quello che è il gusto del tuo mixing Ok? Comunque, la cosa importante da fare, la prima cosa importantissima È avere una voce intonata Una voce senza sbavature Una voce perfetta Ok? E questa è la nostra voce In giro con i frati Valore di Frank West Strat Guerrieri senza le spot Miracoli del cadro Ok? Voce perfetta Intonata Ok, perfetto Ora, cosa si fa? Dobbiamo fare, come abbiamo detto prima Almeno tre copie Facciamo la prima Copia Questa è la voce lead La chiamiamo Voce Terza Ok? E poi facciamo un'altra copia Un'altra copia Già avvocato E la chiamiamo Voce quinta Ok Ora, focalizziamoci sulla voce terza Questo, il CLA Per il momento lo possiamo togliere Chiaramente L'equalizzazione Può rimanere la stessa Rispetto alla voce principale Oppure può cambiare A seconda Al momento Non ci interessa L'equalizzazione Perché non è Quello che voglio farti vedere In questo video Quindi Tralasciamo l'equalizzazione Poi Ripeto Se sei interessato In descrizione Trovi il link Per accedermi ai miei percorsi privati E là Vedremo tutto quanto Togliamo anche l'autotune Siccome Togliamo anche l'autotune Certo Perché Utilizzeremo Un altro Tuner Un altro plugin Che è Autotune FX di Antares Naturalmente Questo autotune Ha già Il tuner interno Per cui mettere Due autotune Sulla stessa traccia Non avrebbe senso Uno e due Potrebbero creare Le distorsioni di fase Ok Quindi Scegliamo la traccia In questo caso È Do minore La traccia Si ho detto La scala Do minore E qua In Nella famiglia Antares C'è una voce Che si chiama Pitch Shift Troat Ok E questa voce qua Ci permette Di poter scegliere Delle altezze A cui trasporre La nostra voce In questo caso O sorgente sonora In questo caso La voce C'è la quinta Giù Quinta Giù Vuol dire che La voce Viene trasposta Di una quinta Giù Ok Per esempio Noi abbiamo Do La quinta Di Do È Sol All'ottava Sol La quinta Di Do Verso giù È Sol Però all'ottava giù Quindi è più grave Ok Molto semplicemente Anche qua Terza maggiore su Terza minore giù Tutti i vari Insomma I vari intervalli principali Di un accordo Noi La trasporremo Una terza Minore Su Perché minore? Perché il pezzo È in Do minore Ok Se il pezzo È in Do maggiore Chiaramente Una terza Maggiore Su Quindi terza Minore Su Return Speed Mettiamo Facciamo un bello A tutti Un spinto Vediamo un po' Ok Così è come suona Vediamo in relazione La principale Giro in giro Con i frod Valor di Frank Queste strade Guerriere senza le spade Miracoli del cadro Ok Perfetto Ora la stessa cosa Andiamo a farla Su La nostra traccia La quinta Però Lo mettiamo Stesso discorso Una Quinta Su Down Fifth Up Perché non c'è differenza Fra la quinta Maggiore E la quinta Minore Perché In un accordo In una triade La differenza Sta nella terza Ok L'intervallo di quinta Resta lo stesso Quindi O maggiore O minore Non avrebbe senso Specificare Per cui abbiamo Questa è una quinta Su Vediamo come suona Ok Perfetto Ora Cosa andiamo a fare Naturalmente Tu Immaginati sempre un coro Il coro Non sono le voci Tutte quante In mono Chiaro C'è la voce principale Il cantante Il coro è dietro Ed ha Una Una spazializzazione Stereo Abbastanza pronunciata Per cui noi andiamo A spazializzare Stereofonicamente La terza E la quinta Una a destra Una a sinistra Ok E Gestiamo Il volume Giro in giro Con i frat Valor di Frank Questa strada Guerrieri senza Le spade Miracoli del cadran Ok Poi Naturalmente Da questo punto in poi Possiamo decidere Se Magari Non metterlo Totalmente Tutto a destra O tutto a sinistra Fare magari Giro in giro Con i frat Valor di Frank Questa strada Guerrieri senza Le spade Miracoli del cadran Ok E abbiamo fatto I nostri cori Molto semplicemente Molto velocemente Per il nostro mix Poi C'è un'altra cosa Che si potrebbe fare Per esempio Possiamo duplicare Ancora Questa traccia E la chiamiamo Una voce Un'ottava Ok Di solito Negli accordi Quando si fanno Gli accordi A 4 Invece che a 3 Si riprende L'ottava Della tonica Può essere Un'ottava giù O Un'ottava su Per cui Noi possiamo Mettere Questa Un'ottava Giù Però la mettiamo Un'ottava Down Ok E Ok Suona così Però chiaramente Questa la mettiamo Al centro Che mi fa dare In forza Valor di Frank Questa strada Guerriere senza Le squad Miracoli del cadran Giro in giro Con i frasi Valor di Frank Questa strada Ok Poi Per esempio Se volessimo andare In maniera creativa A ragionare Su queste tre Su queste Tre armonizzazioni Potremmo fare Dettagli Qua ad esempio E il coro Lo facciamo Solamente Nelle ultime Nelle ultime Frasi Vediamo un po' qua Ti faccio un esempio Chiaramente Questi qua Sono tutti esempi Perché poi Andrebbero presi Nell'economia del mix Vanno fatte Tante valutazioni Però Io ti do qui Degli spunti Ok Solo le parti finali Vengono enfatizzate E quindi esce fuori Questo effetto Chorus Da qua Chiaramente Possiamo andare A racchiudere Tutto quanto In un bus E lo chiamiamo Per esempio Chorus Cori Ok E quindi Giro in giro Con i frati Valor di F*** Guerrieri Senza le squadre Poi questo Può essere trattato Eccetera eccetera Compressione Equalizzazione Insomma Rispetto a quello Che vogliamo noi Ma non è argomento Di questo video Ti ripeto Se sei interessato Ad approfondire Questi temi In descrizione Trovi link Per accedere Ai miei percorsi privati Dove andremo All'interno del percorso A dettagliare Sciorinare Tutti quelli Che sono i metodi Per creare Armonizzazioni Tutti quelli Che sono i metodi Per mixare Le voci Di beat Tutto quanto Ok Questo era Semplicemente Un Un incipit Che volevo darti Per creare Velocemente Dei cori Laddove ti servissero Laddove ti servissero Più voci Per armonizzare Il tuo mix E Questo è un metodo Velocissimo Per farlo Ok Anche per oggi Ho finito Fammi sapere Se ti è stato Utile questo video Se volessi Altri argomenti Che io portassi Sul mio canale In merito All'armonizzazione Oppure Un po' In generale Tutto quello Che riguarda Il mix El master Chiaramente Ci sono Altri metodi Per fare Le armonizzazioni Molto più Interessanti E anche Più precisi Però Questo Sicuramente Con questo Con questo Trick Riuscirai Ad ottenere Dei risultati Molto veloci Io sono Mr. Lobb Questo è il mio Nerva Studio E in descrizione Trovi link Per accedere Ai miei percorsi Privati Dove andremo Nel dettaglio Di tutto ciò Che riguarda Il mix E il mix El master Oppure Se sei un artista Che cerchi Un ingegnere Del suono Che vada A portare A livello successivo Le tue produzioni Vada a mixare A masterizzare Le tue produzioni In descrizione Trovi anche Il link Per accedere Ai miei percorsi Ai miei servizi Di mix E master O se semplicemente Hai un'idea Che ancora però Non riesci a realizzare Non riesci a portare Potremmo dire Proprio nella materia Io e il mio staff Di produttori Possiamo aiutarti A svilupparla Al meglio Dal Minerva Studio È tutto Ci vediamo Alla prossima Ciao 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 Ciao